Si continua a scavare, ma le speranze di trovare qualcuno ancora in vita sono pochissime. Il bilancio provvisorio è di 18 morti e 77 feriti. L'artiglieria russa ha lanciato tre missili contro la città di Cernikiv, che si trova a circa 100 km a nord di Kiev, l'ennesima strage di civili in Ucraina. L'attacco missilistico è la risposta al raid contro un aeroporto militare russo in Crimea, dove hanno perso la vita 30 soldati di Mosca. Pochi giorni fa Zelensky ha ringraziato la Germania per aver consegnato all'Ucraina un ulteriore sistema di difesa antiaerea per mettere al riparo le zone più esposte agli attacchi missilistici russi. E proprio a Berlino è scoppiato un nuovo scandalo. Due spie con passaporto tedesco e russo sono state arrestate con l'accusa di aver pianificato attacchi di sabotaggio in Germania anche con bombe contro strutture militari. L'obiettivo era attaccare il sostegno militare all'Ucraina. La portavoce della Procura federale ha spiegato che uno dei due sospettati aveva già individuato alcuni potenziali obiettivi. Il governo tedesco ha fatto sapere che non si lascerà intimidire dagli agenti russi. Non è la prima volta però che gli 007 di Mosca cercano di condizionare le scelte politiche militari di Berlino. Poche settimane fa due alti generali tedeschi vennero intercettati mentre ragionavano sulla consegna di nuovi missili a Kiev. Conversazioni che furono registrate e diffuse proprio dai servizi segreti del Cremlino.